Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e Lazeta Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In Keyforge, da quando le prime chiavi sono state forgiate, un dubbio è sempre sorto nelle menti di molti giocatori. Essendo tre le chiavi che separano un forgiatore dalla vittoria finale con un loro specifico codice colore, rosso, blu e giallo, il quesito è sempre stato se fosse presente un vero e proprio ordine di creazione. Prima di iniziare, volevo avvisarvi che nella data di ieri, sabato 7, e in quella odierna, si sta svolgendo il torneo dal vivo all'Arcade & Food nella splendida cornice di Roma, la città immortale. La prossima settimana vedremo nel dettaglio lo sviluppo di queste due giornate all'insegna del nostro gioco di mazzi unici al mondo. Tornando al tema del video, attraverso due tematiche ben specifiche, in questo contenuto risponderemo alle domande Esiste un ordine di forgiatura per le chiavi in Keyforge? E l'arrivo della nuova casa del crogiolo, non ancora usufruibile per il nostro gioco di mazzi unici al mondo, gli Skyborn o Figli del Vento, tradotto alla bene in italiano, imporrà un preciso ordine di forgiatura alle chiavi presenti in campo? Scopriamolo assieme analizzando ogni singolo argomento. Andiamo a dargli un'occhiata. In Mondi in Collisione, la terza espansione per Keyforge, sono state presentate una selezione di 10 carte provenienti da set futuri. Queste finestre temporali, che affacciavano direttamente i suoi eventi ancora non avvenuti, hanno mostrato anche l'arrivo di una nuova casa, grazie al servitore Barone Rosso. Sappiamo molto poco dei Figli del Vento, se non fosse per una descrizione, devo dire anche abbastanza accurata, della loro struttura societaria, delle tecnologie che utilizzano e di molti altri aspetti che li caratterizzano, riportate nel manuale del gioco di ruolo I Segreti del Crogiolo. Vi lascerò come sempre il link in descrizione che introduce il forgiatore a questa nuova fazione. Si sa per certo che il loro elemento è il vento, abbastanza ovvio, e che utilizzano macchine volanti per potersi spostare in lungo e in largo tra i cieli del Crogiolo. Tra i vari talenti aerei, il Barone Rosso è quello che, anche per cenni storici presenti sulla Terra, rappresenta la vera entità di un popolo che vive per volare. Ma vediamo cosa sarà in grado di fare, una volta che sarà libero di librare sul campo di battaglia. L'effetto del Barone Rosso è diviso in due frazioni ben distinte, ognuna con un suo innesco ben preciso e diversa l'una dall'altra. La prima sezione riporta La seconda parte dell'effetto invece cita Mentre la chiave rossa del tuo avversario è forgiata, il Barone Rosso ottiene illusione. Quindi a questo punto, sapendo che nel vostro mazzo ci sarà questo servitore, non mi sorprenderei di scoprire che, per voi la prima chiave creata sarà proprio quella rossa, mentre per il vostro avversario sarà quella che concluderà il match. E viceversa, naturalmente. Ora però iniziano a sorgere i primi dubbi al riguardo. Se l'unico del vostro avversario risulterà essere abbastanza forte da non farvi forgiare chiavi, avrete a disposizione un semplice mostro con i tratti cyborg pirata, con quattro di costituzione, una sola unità di armatura e praticamente nessun effetto. Per farvela semplice, sarà come avere in mano un pezzo di Exodia il proibito, la gamba, per dirne una tra i cinque pezzi, e avere la convinzione di riuscirci a fare qualcosa, sapendo inoltre che le restanti quattro parti sono state rimosse dal gioco. È drastico come paragone, ne sono a conoscenza, ma è per buttarla sul sillogismo più profondo del senso. Letteralmente avrete in gioco un servitore i cui unici scopi saranno raccogliere o combattere senza innescare alcuna meccanica che ne conseguirà. Per questo, oltre al Barone Rosso, potrebbero accompagnare l'aviatore di casa Figli del Vento anche altri due piloti, che potrebbero prendere il nome di Barone Blu e Barone Giallo. Al momento non si conoscono né l'immagine, né gli effetti, né se tantomeno esisteranno servitori del genere, ma mi auguro che se dovessero essere presenti abbiano dinamiche che si muovano sempre attorno alla forgiatura delle chiavi in campo, così da tener conto sia di quelle proprie che del rivale. Questo porterebbe a svincolare un eventuale ordine di creazione delle chiavi, mantenendolo casuale come lo è al momento. In più, non mi dispiacerebbe trovarli sempre assieme come i quattro cavalieri dell'Apocalisse o Orfiel, eletta del mare, ed Orfion, eletto della terra. Il trovarli in un deck sempre tutti e tre presenti, quindi, non cambierebbe effettivamente nulla, dato che qualsiasi chiave si deciderà di forgiare, vostra o del vostro avversario, influirà sempre e comunque con le altre tre versioni del Barone, a seconda del codice colore di riferimento. In questo caso, nella fattispecie, nessun servitore di tale tipologia risulterà essere una gamba di Exodiel proibito, ma potrà a modo suo influire sulle vicende che accadranno sul campo di battaglia, visto che, se il vostro avversario deciderà di forgiare la chiave rossa, per ultima ad esempio, ci saranno comunque gli altri due Baroni che potranno dire la loro minimizzando così i danni. Ora, ci sono tre creature di casa Dis che in effetti potrebbero segnalare la presenza futura di una qualche sorta di ordine che potrebbe presentarsi in futuro. Di chi sto parlando? Vediamolo assieme. Girovagando per Instagram sono stato attirato da un post datato 2 settembre pubblicato sul profilo del Keyforge Universe, link in descrizione, dove si parlava per l'appunto dell'ordine di forgiata delle tre chiavi, notando che in uno specifico punto del post è stato menzionato anche il Barone Rosso. In questo interessante estratto di crogiolo, i protagonisti della vicenda sono stati i tre imp delle chiavi, bronzea, argentea e dorata. I signori dello Universe hanno argomentato con criterio le loro deduzioni, evidenziando il fatto che, secondo la correlazione nome della carta, effetto della carta, l'ordine corretto di forgia dovrebbe essere chiave rossa, chiave blu e chiave gialla, che per l'appunto riproporrebbero i colori dei tre imp, rosso-bronzo, blu-argento e giallo-oro. Hanno anche aggiunto che, comunque, nel regolamento non ci sono riferimenti a tal proposito. Ed hanno ragione, non ce ne sono mai stati. Per ora. Anche visitando i vari siti di riferimento, come la Wiki di Keyforge e Keyforge Italia, in entrambi non si fa riferimento ad un ordine prestabilito, descrivendo nella sezione dei casi particolari quanto segue per la Wiki. Domanda. L'imp ha dietro un occhio rosso. Vuol dire che la prima chiave è rossa? E se è così, posso forgiare la blu o la gialla invece? Risposta. Non c'è un ordine di colore delle chiavi. La prima è quella che ti porta da zero a una chiave forgiata e quindi ad averne davanti una forgiata e due no. Il colore non conta. Identica cosa, ma con ordine diverso per i restanti imp. Descrizione simile per quanto riguarda Keyforge Italia che nei suoi casi particolari riporta Non c'è un ordine di colore delle chiavi. La prima chiave è quella che ti porta da nessuna chiave forgiata a una e quindi ad averne davanti una forgiata e due no. Il colore non conta. E aggiunge Per prima chiave si intende che non ne hai nessuna forgiata e ne stai forgiando una. Non importa se hai forgiato altre chiavi in partita che ti sono state spezzate. Anche qui identica cosa, ma con ordine diverso per i restanti imp. Come sempre in descrizione vi lascerò il link ad ogni servitore di Casa Dis e del Barone Rosso così che potrete da voi consultare i casi particolari riportati sotto ogni singola carta. Concludendo quindi, ci sarà questo ipotetico assetto forzato di forgia delle chiavi? E l'arrivo dei figli del vento ne influenzerà in qualche modo l'ordine? La risposta è... No, in entrambi i casi, almeno al momento. Ogni giocatore potrà girare le chiavi che preferisce come preferisce. Almeno questo è ciò che succederà se tutto quello che è stato detto sugli Skyborn e i Tre Baroni si tramuterà in realtà. Ma anche in quel caso, nel regolamento generale si potrà pensare di aggiungere una piccola voce che obbligherà ogni forgiatore ad una sequenza ben precisa e descritta per vivacizzare le dinamiche di gioco. Accadrà? Chissà, staremo a vedere. Quindi mi preme dirvi, come sempre, di prendere tutte le informazioni che riguardano il futuro di Keyforge riportate in questo video come ufficiose e frutto di ipotesi. E voi, cosa ne pensate di questa tematica? Fatemi sapere nei commenti le vostre opinioni e se secondo voi potranno esistere un giorno più Manfred von Richthofen che solcheranno i cieli del nostro amato crogiolo. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.